Sono state espletate le operazioni di spoglio e quindi vi comunico l'esito delle votazioni. Schede scrutinate 258, voti presenti 1208, voti validi 1206, schede bianche voti 33. Hanno riportato Vittorio Orlandi, voti 944 pari al 78,28% del canale. Andrea Bantano, voti 229 pari al 18,99% dei voti scrutinati. Per cui eletto al primo scrutino e dichiaro il Presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Sport Equestri, il Cavaliere Vittorio Orlandi. Prego il Presidente di avvicinarsi al palco per un breve saluto all'Assemblea. Sono emozionato perché riceve tanta fiducia così minusica che mi sprona ancora di più a dedicare questi quattro anni a tutti voi. voglio che il vostro bene e per la prima volta ho voluto, avendo una lista di lunga dei candidati consiglieri, ho voluto fare una mia lista perché sono tutte persone per bene e molto disponibili per collaborare con me. Quindi lascio da voi la libertà di scelta che sono certo che comunque scegliate e sceglierete per il bene. L'unica cosa che non voglio è avere in consiglio di persone turbulenti, persone non nel rispetto delle voci diventi. E voglio un consiglio sereno perché il lavoro che abbiamo fatto è tanto che ci vuole serenità per essere più efficaci. Grazie, grazie, grazie. Grazie.